Colgo l'occasione per ringraziare l'Istituto Salisiano San Zeno per l'opportunità concessa a GMMSPA di poter collaborare con loro con questo magnifico progetto dell'installazione della nuova macchina Littox 1000 sagomatrice, contornatrice e segatrice nel loro istituto presso Sant'Ambrogio e Valpolicella dove gli studenti della scuola potranno fare l'esperienza pratica delle lavorazioni del marmo attraverso la macchina e della possibilità che operatori del settore, aziende comunque del bacino di Verona possano partecipare ai loro corsi utilizzando la nostra macchina.